DS3, modello di punta del marchio premium di Group PSA. Dopo aver tagliato a fine 2016, il traguardo delle 400.000 unità prodotte è partito in crescita nel 2017, con l'offerta di una gamma completa e infinite possibilità di personalizzazione. Un successo decretato dal pubblico femminile che apprezza soprattutto lo stile e le qualità di comfort della vettura, ma anche da quello maschile, conquistato dalle doti dinamiche e dal temperamento sportivo. Per sottolineare il carattere esclusivo e in campo high-tech di tutti i modelli, unito alla raffinatezza e all'eleganza degli allestimenti, viene ora proposta anche l'applicazione gratuita MyDS, disponibile per smartphone con sistemi iOS e Android, che consente di mantenere sempre strettamente sotto controllo la propria auto prima, durante e dopo ogni viaggio, per quanto riguarda assistenza, manutenzione e programmata, percorsi e accesso ai contenuti di aiuto alla guida. Intanto la divisione di S Performance si prepara alla seconda parte della stagione del campionato delle monoposte elettriche di Formula E, ingaggiando come terzo pilota tester Alex Lynn, già con un ricco palmaresse nella Formula Renault UK e nel GP3, oltre al ruolo di Development Driver in Formula 1. In Italia inaugurato a Sinalunga il Centro di Documentazione Storica di Group PSA, che dedicherà mostre e importanti iniziative alla mitica DS, rivoluzionaria vettura nata negli anni 50, ispiratrice dei contenuti esclusivi del nuovo marchio premium.